Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle ultime notizie regionali dal Veneto, arrestato per tentato omicidio un dipendente di poste italiane della sede di Mestre. La polizia del settore polizia postale ha arrestato per tentato omicidio aggravato un uomo di 62 anni addetto alla lavorazione della corrispondenza presso il centro di smistamento di poste italiane. I fatti si sono verificati verso le 9.30. L'uomo per motivi che sono ancora in corso di accertamento legati comunque a questioni lavorative ha afferrato un coltello che portava all'interno del marsupio sferrando due colpi all'addome e due al collo in rapida successione al suo collega, un uomo di 37 anni. Il personale di poste italiane presente nei locali dove è avvenuta l'aggressione richiamato dalle urla del ferito lo ha prontamente soccorso e ha dato l'allarme. Il personale della polizia postale immediatamente intervenuto ha bloccato l'aggressore che dopo il grave gesto era tornato nella sua postazione di lavoro. Il 62enne è stato arrestato per tentato omicidio aggravato, l'arma è stata sequestrata. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica della questura di Venezia per i rilievi di competenza. L'attività di indagine è coordinata dalla procura della Repubblica di Venezia. E adesso andiamo in provincia di Padova. Due banditi sono entrati in una casa a Saunara. Sono in corso indagini per risalire alla loro identità. Il padrone dell'abitazione è stato colpito alla testa. Sentiamo che cosa è accaduto. Rapina in casa a Saunara in provincia di Padova. Un uomo di 68 anni in serata si è trovato davanti due sconosciuti armati di pistola e bastone. I due banditi lo hanno colpito alla testa e si sono fatti consegnare 5.000 euro in contanti. Dopo aver preso il denaro si sono impossessati dell'auto del padrone di casa e si sono dileguati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per dare un'identità ai rapinatori. La macchina, una C3, è stata ritrovata a tombelle di Saunara. È stata sequestrata per eseguire accertamenti ulteriori. Sul posto è intervenuto il 118. Il padrone di casa, 68 anni, ha riportato una ferita all'acero contusa alla testa. Gli sconosciuti si erano introdotti nell'abitazione attraverso una porta lasciata aperta. Dalla città di Padova, in pieno giorno, sola in casa, una ragazzina di 13 anni che aveva sentito suonare al videocitofono e aveva visto un ragazzo sconosciuto con la mascherina non ha aperto. Poco dopo ha sentito però dei colpi alla porta di casa. Si è quindi chiusa in una stanza chiamando la madre che a sua volta ha allertato il 113. Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto la testimonianza e la descrizione del giovane mettendosi subito alla ricerca di chi aveva tentato di entrare in quella casa. Sulla porta c'erano i segni di una tentata e frazione con un grosso cacciavite. Mentre erano in corso le ricerche dello sconosciuto una volante ha sorpreso un giovane che stava scavalcando la recinzione di un'altra abitazione questa volta in via Caprera. Il ragazzo subito bloccato corrispondeva esattamente alla descrizione fatta dalla tredicenne dalla perquisizione effettuata nello zaino di cui era in possesso questo ragazzo che si dichiarava un tredicenne croato. Gli agenti hanno trovato due paie di calzini utilizzati come guanti per compiere l'attività illecita e due felpe che sarebbero state utilizzate successivamente per cambiarsi d'abito e quindi non farsi riconoscere. Durante il controllo mentre erano fermi con questo giovane i poliziotti hanno sentito un trambusto provenire dalla parte posteriore della casa. Era il complice che stava tentando di fuggire che dopo un breve inseguimento è stato raggiunto in via Vicenza. I due per tentare di non essere arrestati hanno falsamente dichiarato di essere tredicenni ma l'esame osseo ha accertato la maggiore età per uno e la imputabilità per l'altro perché di età superiore a 14 anni. Nel comune di Mel scontro tra un furgoncino e un'apecar sbalzato fuori è ferito il conducente del veicolo più leggero quello a tre ruote. Sul posto sono arrivati i pompieri da feltre che hanno messo in sicurezza i due mezzi mentre l'uomo è stato assistito dal personale sanitario del suo e ma è stato stabilizzato sul posto e trasferito all'ospedale con l'elicottero. Il leso è il giovane conducente del piccolo veicolo commerciale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilevi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Adesso ritorniamo a Padova ma cambiamo completamente argomento. Padova riparte dalla cultura. È il titolo di un bando per sostenere il settore cultura e spettacolo. Un bando che è stato aperto e chiuso poco tempo fa. Sentiamo com'è andata e che cosa sta per accadere. Si è conclusa la valutazione delle oltre 120 richieste di finanziamento arrivate per il bando Padova riparte dalla cultura. In virtù della qualità dei progetti presentati e della quantità di richieste fatte il sindaco Sergio Giordani ha deciso di stanziare ulteriori 100.000 euro per finanziare progetti culturali che animeranno la prossima estate. Sono quindi 20 le associazioni che beneficeranno di un contributo fino a 20.000 euro mentre sono 10 i soggetti che beneficeranno di un contributo fino a 5.000 euro. Dichiara il sindaco di Padova sono rimasto veramente stupito dalla qualità dei progetti che le associazioni e i professionisti della cultura padovani hanno messo in campo. Il giorno in cui sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e ne abbiamo visto arrivare oltre 120 ci siamo resi conto di avere intercettato una domanda importante. La pandemia ha segnato un duro colpo per tutti ma il mondo culturale è stato colpito in particolar modo. Solo nella nostra città dice il sindaco di Padova parliamo di centinaia di persone tra artisti, tecnici, professionisti, organizzatori che hanno incontrato molte difficoltà e che ora non vedono l'ora di poter ripartire in sicurezza se possibile con più determinazione di prima. Quando quest'estate ci imbatteremo in un'iniziativa in città invito tutti dice ancora Sergio Giordani a fare questo pensiero dietro ad un concerto, dietro ad uno spettacolo teatrale, una proiezione così come dentro a un museo, una mostra, una biblioteca ci sono centinaia di lavoratori che per oltre un anno sono stati fermi, magari senza alcun aiuto. La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato per evasione un soggetto tossicodipendente di nazionalità italiana di 31 anni che soltanto due giorni prima era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dopo un arresto per tentata rapina e lesioni aggravate. Il soggetto sperando di non essere visto in realtà anzi che stare al proprio domicilio si aggirava liberamente sperando di non essere visto. Quando è incappato nei poliziotti dopo un vano tentativo di nascondersi ha cominciato a scappare dando inizio a un inseguimento a piedi che si è concluso con il suo arresto che è stato convalidato dal tribunale con il ripristino degli arresti domiciliari. E sempre la Polizia di Stato a Venezia nella medesima giornata a distanza di poche ore ha messo a segno un altro importante risultato riuscendo ad arrestare dopo una roccambolesca fuga un soggetto di origini marocchine di 36 anni. L'accusa nei suoi confronti furto e resistenza pubblico ufficiale. A seguito di segnalazione di un furto in una tabaccheria di mestre gli agenti sono intervenuti e si sono messi subito sulle tracce dell'autore analizzando le telecamere di sicurezza. Riconosciuto il soggetto noto per essere dedito al consumo di stupefacenti e solito frequentare la stazione ferroviaria sono state allertate varie pattuglie. Sceso in campo anche l'unità operativa di pronto intervento che ha individuato il malvivente in una zona limitrofa e dopo un roccambolesco inseguimento è riuscita a raggiungerlo. Nonostante la resistenza opposta dal soggetto durante la fuga è stato bloccato e assicurato alla giustizia. A seguito del giudizio per direttissima il tribunale ha inflitto all'uomo il divieto di dimora e l'espulsione giudiziale dal paese. E adesso ritorniamo a Padova, parliamo di una grande e bella iniziativa, quella del Museo degli Insetti. Sentiamo le novità. Realtà virtuale, app e nuovi video per visite ancora più emozionanti pensate per grandi e bambini. Il Museo degli Insetti Viventi di Padova ha riaperto i battenti e nei mesi di chiusura imposti dalla pandemia ha rinnovato le sue attività grazie al progetto europeo Musnet finanziato dal programma Europa Creativa. Tante novità che potranno essere scoperte durante una giornata a ingresso gratuito sabato 19 giugno dalle 10 alle 17. L'evento, i nuovi strumenti e le attività per il pubblico sono stati presentati dal presidente della provincia di Padova Fabio Bui, dal vice presidente e consigliere delegato alle politiche europee Vincenzo Gottardo e dal direttore del Museo Enzo Moretto. Questi progetti servono proprio per creare interesse, per creare curiosità, ma soprattutto per rendere i cittadini attivi nelle dinamiche dell'Europa. Molto spesso dell'Europa se ne sente sempre parlare come una gigante, spesso inavvicinabile. Invece i progetti che la provincia sta realizzando servono a rendere i cittadini attivi, a rendere i cittadini partecipi alle varie iniziative e conoscere soprattutto le varie dinamiche che coinvolgono i paesi dell'Europa. Molto bello che questa sia una piattaforma tra paesi dell'Europa per cui tutto quello che per esempio realizziamo e facciamo a Padova sulla storia dei musei verrà conosciuto negli altri paesi d'Europa. Un'altra bellissima caratteristica di questo progetto è la figura del manager dell'accessibilità proprio per rendere a tutti i cittadini fruibili i contenuti di questi progetti e soprattutto ciò che questi progetti raccontano. Sono storie e tradizioni del nostro popolo, della nostra civiltà, della nostra terra. Siamo arrivati al termine di questa edizione, uno sguardo anche al tempo, le condizioni climatiche rimarranno abbastanza stabili anche per le prossime ore. Sarà possibile qualche isolato rovescio sulle zone di montagna, per il resto avremo delle condizioni di tempo sereno. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi invito a rimanere su Telecittà perché tra poco le notizie continuano a cura di Italpress 24. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.